Salve a tutti amanti della cucina! Oggi in Cucina con Mamma prepariamo... Dolcetti al cocco Prendiamo latte condensato e farina di cocco Mescoliamo Mettiamolo in una sacca poche oppure possiamo anche fare delle palline e facciamo la forma che più ci piace Potete guarnirle con delle mandorle pelate oppure lasciarle così Infornate a 180 gradi per circa 10 minuti o finché non diventano così brune In Cucina con Mamma vi augura un buon appetito E mi raccomando, restate sazzi! Grazie! 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 Grazie a tutti